Ciao a tutti, io sono Andrea Rampazzo, sono il dance artist italiano che fa parte del progetto My Grand Body's Moving Borders. Mi è stato chiesto quali sono le due parole che ho scelto del glossario polifonico e io ho scelto fiducia, perché penso sia qualcosa che è stata costruita durante tutto il progetto, specialmente con le persone che ho incontrato e con cui sto lavorando da parecchi mesi qui di Bassano, ma anche con i colleghi. La fiducia sia nella relazione, nell'incontro e quindi nella conoscenza, ma poi anche la fiducia che viene ampliata e rinvigorita singolarmente, quindi sia per me ma anche per, penso a Lamin, uno dei partecipanti, e quindi il potenziamento che porta a questa fiducia. E la fiducia anche nella danza, come mezzo che è estremamente rilevante per poter cambiare le situazioni e poter aprire un dialogo. E l'altra parola è playfulness, giocosità, che è una cosa secondo me fondamentale da mettere nella pratica, per poter, prima di tutto, divertirsi, però poi magari trasmettere un messaggio che sta sotto questa giocosità. E poi perché, sì, ne abbiamo bisogno di divertimento.